torni indietro tranquilla bravissimo alza i piedi in effetti è vero mi ha beccato un matto che già l'ho perso prima ecco vai arrivo poi ci abbiamo preso gusto troppo corto dai Marisa vai dai 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 stai a fare un video sicuro che ci faccio prendere tutto qui puro armi Grazie